Quando visualizzate una foto nella timeline di Facebook in effetti la qualità è anche abbastanza decente ma molto spesso quando andate ad aprire notete sicuramente che la qualità dell'immagine scende scende perché ovviamente l'immagine viene ingrandita e lì proprio si visualizza la poca risoluzione della fotografia molto spesso le fotografie a basse risoluzione su Facebook sono quelle caricate da smartphone soprattutto smartphone Android ma quelle di Facebook ce l'hanno fatta dopo anni e anni e anni hanno capito e hanno dato il via ad un roll out che è iniziato circa una settimana fa ma che in effetti non è ancora arrivato a tutti gli utenti quello della possibilità di caricare le fotografie in HD si tratta di un grosso passo in avanti per il social network di un grosso passo in avanti anche per i nostri occhi che finalmente potranno vedere fotografie a una risoluzione maggiore di 2000 pixel per quanto riguarda la larghezza e in questo video vi farò vedere proprio come attivare questa funzionalità perché in effetti anche se è stata introdotta gradualmente a tutti gli utenti Android non è attiva automaticamente quindi il buon Dario Caliente vi farò vedere come attivarla e ovviamente è una cosa veramente semplicissima che io vi invito a fare vi ricordo che però caricare foto in HD su Facebook in effetti va a incidere sul traffico disponibile che avete nel vostro piano abbonamento quindi in effetti se avete poco spazio dovete valutare se vale la pena o meno caricare fotografie in HD o comunque conservarsi il traffico dati io sono Dario Caliente e vi do il benvenuto al nuovo video di TechFanPage attivare il caricamento delle foto in HD in Facebook per Android è estremamente semplice tutto quello che bisognerà fare sarà andare nel menu della propria applicazione scorrere fino in basso fino a trovare la voce impostazioni applicazione e a questo punto tra gli elementi elencati nel caso in cui vi sia stata attivata noterete proprio la nuova funzionalità che è contraddistinta dal testo carica foto in HD tutto quello che dovrete fare ovviamente sarà attivare la funzionalità e il gioco è fatto a questo punto ogni volta che caricherete una fotografia sarà caricata in HD su Facebook lo farà sia tramite wifi che tramite rete cellulare la differenza sarà visibile sostanzialmente su dispositivi dotati di un display ad alta risoluzione o di grandi dimensioni come un phablet o un tablet e poi ovviamente sui computer dove gli schemi grandi fanno vedere tutte le imperfezioni delle immagini io sono Dario Caliente all'appuntamento al prossimo video di TechFanPage